buongiorno a tutti bentornati in questo nuovo video allora oggi volevo parlarvi di un progetto che vorrei avviare da lunedì per quanto riguarda volevo scoprire quale è stata la regione più fredda d'italia per quanto riguarda il mese di gennaio per fare questo farò ovviamente troverò la temperatura media di ogni regione ogni regione vi porterò un video farò le temperature medie per ogni provincia di ogni regione dopo ad esempio il lazio ha roma viterbo frosinone rieti e latina troverò le temperature medie per queste cinque città e poi dividerò il tutto diviso diviso 5 che è il numero delle province del lazio adesso io vi ho fatto l'esempio del lazio lo farò così per ogni singola regione e come ho detto prima vi porterò i dati di ogni singola regione in un video e poi alla fine quando avremo raccolto tutti i dati andremo a fare una media di tutte le regioni e tutti i dati di tutte le regioni scopriremo qual è stata la regione più fredda d'italia e poi ovviamente andremo a scoprire anche quella è stata la più calda d'italia per quanto riguarda la più fredda se la giocano e diciamo principalmente quelle del nord secondo me una copia è una competizione per quella più fredda tra veneto e trentino principalmente però può darsi anche che mi sbaglio perché comunque il trentino a trento e bolsano che comunque sono due città montane però comunque sono a bassa quota il veneto principalmente pianura però alla provincia di belluno che comunque se si trova quasi 500 metri e raggiunge va spesso anche al di sotto dei meno 10 meno 13 ovviamente può darsi che mi sbaglio e può essere tutto aspetteremo i dati grazie per la visione